Pronto a tesserarti? BASTA UTIR! Ma ti starei chiedendo che cos'è il pregato di scoprire l'anno scorso? Beh, ottima domanda! Per farla breve, siamo passati da noi, vatori, associazioni, circoli, a noi. In soldoni, i tesseramenti, gestisce interamente il nostro oratorio. Senza fidarsi più alle tecnici. In questo modo avremo vantaggi enormi nella gestione dell'attentità dell'oratorio. Inverno, come l'estate. Quindi è più così. Il prezzo non è cambiato. Ogni tesseramento costa comunque 10 euro, come tutti gli anni precedenti. Ma parte del ricavato verrà riservato, anziché all'assicurazione, al fondo cassa per la gestione e manutenzione di attività e gli ambienti dell'ostradorio. Se hai dei rubi sul sistema dei tesseramenti, non esitare a guardare gli altri video presenti sul nostro canale YouTube. E già che ci sei, perché no? Metti un like! Metti un like! Metti un like! Metti un like!